Ciao a tutti, da Argomenti ci troviamo con il preside, il dirigente Riberto Rigottini. Allora, Eriberto, finalmente con le nuove disposizioni la scuola è ritornata al centro. Eh, finalmente. La cosa che più mi rende orgoglioso di essere operatore di scuola è che ancora una volta la scuola ha avuto qualcosa da insegnare a tutti. In un momento di problema, di difficoltà, è inutile chiudersi dentro casa a piangere ma bisogna riboccarsi le maniche e ricominciare. E la scuola questo ha fatto e questo ha insegnato. Le lezioni sono riprese regolarmente, tutti in classe e quando c'è qualche problema si sta andando in quei dieci giorni. Da oggi cinque giorni solo saranno avanti. Cinque giorni. Ma la scuola è andata avanti e soprattutto questo ha fatto. Ha insegnato che nei momenti di difficoltà si valuta la situazione e si va avanti senza paura. Grazie mille, Riberto. Sempre positivo e soprattutto determinato. Ciao, Riberto. Un saluto a tutti i lettori di argomenti. Ciao. Un saluto a tutti i lettori di argomenti. 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 Un saluto a tutti i lettori di argomenti.